Ancora buona serata gentili telespedatori di Teleantenna, telegiornale in questo caso di Udine e Pordenone. Apriamo subito con la notizia che arriva da Venzone dove c'è stato un incidente, un terribile incidente, un'auto contro un tir. C'è un 45enne che purtroppo ha perso la vita. Il servizio è d'apertura del telegiornale. Grave incidente stradale con un 45enne friulano morto nella frazione Carnia di Venzone, poco prima delle 16 sulla strada statale 13 Pontebana, che è stata chiusa alla traffico per consentire le operazioni di soccorso da parte del personale sanitario del 118 e dei vigili del fuoco. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Tolmezzo, pare che l'autista di una utilitaria, una Fiat 500 L, sia andato a schiantarsi contro un auto articolato carico di legname che proveniva dall'opposta corsia di marcia. L'impatto è stato violentissimo ed il conducente della Fiat è deceduto durante il trasporto in ospedale. Lo scontro si è verificato a poca distanza dall'hotel Carnia, proseguendo verso nord, a circa un chilometro dall'albergo. Il camion austriaco è rimasto in bilico tra la strada e il fiume Fella. Sono in corso le ocuere di recupero del mezzo pesante che ha sversato notevole quantità di carburante sulla strada. Vittima dello schianto, un uomo di Pontebba, classe 1970, Roberto Wuerich. Viaggiava da solo, tornando dal lavoro. Era impegnato in un caseificio della zona. E ora andiamo a Pordenone. Sentite invece che cosa ha fatto un famoso maratoneta. Si è trovato inseguito dai banditi armati di macete durante una gara e si è nascosto tra la vegetazione e il servizio. Danilo Callegari temeva gli squali e gli animali della savana, ma una volta sbarcato in Tanzania, dopo la traversata a nuoto di 50 chilometri partita da Zanzibar, ha scoperto come l'animale più pericoloso della terra resti sempre l'uomo, specie se armato di macete e come ha descritto lo stesso sportivo pordelonese, con gli occhi di sangue. La brutta avventura però è fortunatamente finita bene, ma quanta paura. In questi giorni, infatti, il 31enne Danilo Callegari sta affrontando l'Africa Extreme, un'impresa che prevede la traversata di un lembo di oceano indiano, già completata, una lunga serie di maratone in Tanzania e infine la scalata, con successiva discesa senza campi intermedi, del Kilimanjaro. E proprio nel mezzo della terza tappa, Callegari ha rischiato grosso. Ero solo, ha spiegato lo stesso Callegari, quando un uomo adulto con faccia poco raccomandabile e occhi ripieni di sangue mi ha passato in sella ad una moto squadrandomi da testa a piedi, tornando indietro dopo solo 100 metri risquadrandomi in un modo che non mi era affatto piaciuto. Ecco quindi la mia decisione di togliere l'orologio dal polso e infilarmi dentro dei cespugli, mimetizzandomi al meglio, in attesa di un suo ritorno per concludere l'opera. E così è stato, due moto, con lui e l'altra con altri due uomini armati di macete. Vedevo che mi cercavano, ma non mi hanno beccato e se ne sono tornati indietro, ha poi ribadito lo stesso Callegari. Andiamo a Spilimbergo, invece, dove l'uomo si è barricato in banca, proprio per protestare. Sentiamo Guido Venaduzzo. Si è barricato negli uffici della filiale spilimberghese della Banca Popolare di Vicenza, chiedendo di parlare con il presidente dell'Istituto di Credito Veneto Gianni Zonin. È durata oltre due ore la nuova clamorosa iniziativa di protesta messa in piedi da Ferninando Polegato, il ristoratore spilimberghese e fondatore del movimento Il Grembiule, e finito spesso nell'attenzione delle cronache per i suoi gesti eclatanti. Nel mirino di Polegato, questa volta, c'era appunto l'Istituto di Credito Veneto, sotto inchiesta per aggiottaggio e ostacolo agli organismi di vigilanza. Per protestare contro quanto sta accadendo, il ristoratore spilimberghese si è recato ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, nell'ufficio del vice direttore della filiale spilimberghese, chiedendo di parlare con il presidente Gianni Zonin. La protesta è proseguita fino alle 17 circa, quando sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno forzato la porta dell'ufficio e fatto uscire Polegato. Appena uscito dall'ufficio, ha spiegato usate per pagare le rette della casa di riposo degli anziani, che hanno perso tutti i loro risparmi. Quella di ieri è l'ennesima iniziativa di protesta da parte di Polegato. La prima era stata la salita sulla torre dell'acquedotto di Spilimbergo, dopo aver ricevuto una cartella di pagamento da Equitalia. Nel gennaio del 2014 aveva occupato il campanile di pescincanna per chiedere una svolta al mondo della politica. Mentre l'anno prima era salito in cima al castello di Cordovado, insieme ad una donna che aveva scelto quella forma di protesta per denunciare la propria situazione. A Campo Formido, il consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia Claudio Violino parla di Renzi, che a quanto pare starebbe passando soprattutto tutte le realtà democratiche. Lauro Nicodemo. Il Friuli. C'è anche qua dei movimenti che vorrebbero portare questa esperienza istituzionale anche in Friuli Venezia Giulia, dividendo la regione da una parte la città metropolitana, l'altra è il grande Friuli, però ci sono dinamiche centrifugue rispetto a questa ipotesi. Lei cosa pensa? Allora, facciamo un po' di ordine. La nostra regione, Friuli Venezia Giulia, nasce nel 1963, in un'epoca in cui ancora non era definito il confine orientale, non c'era ancora il trattato di Osimo, quindi c'era una necessità anche di geostrategica mondiale di avere una specialità regionale che includesse due realtà, il Friuli e Trieste, sostanzialmente, che ancora, ripeto, era sotto l'amministrazione alleata fino al 54 e quindi con grossi problemi. da lì nasce questa regione che è sempre stata di due anime, con il trattino Friuli trattino... Poi qualcuno ha pensato di tirarlo via? Ecco, qualcuno l'ha pensato di tirarlo via e non è stato tirato via dal tutto perché sia sullo statuto della regione Friuli Venezia Giulia che ha valore costituzionale, sia l'articolo 131 della Costituzione, la linea c'è ancora. Ma al di là di questo, io dico, queste due realtà vanno comunque pensate, ma quello che oggi è più importante è capire che siamo in un momento a livello italiano di neocentralismo pericolosissimo. Renzi sta passando sopra a tutte le realtà democratiche, ha annullato tutto quanto parlava di federalismo e di decentramento, punta a togliere competenze, anzi le ha già tolte con la legge al Senato costituzionale, competenze alle regioni a statuto ordinario, è il primo passo per togliere competenze anche allo statuto speciale. Noi non ci stiamo, noi non ci stiamo. L'emendamento passato proprio in questi giorni del senatore Rannuzzi del PD che ha fatto buono dal governo che permette di ridurre le regioni in Italia, beh ci offre pericolose derive. ecco, noi non vogliamo entrare come Friuli Venezia Giulia in un grande Veneto, in un grande Triveneto, perché in quel caso Trieste sarebbe Città metropolitana e il Friuli perderebbe la sua autonomia e diventerebbe l'ottava provincia del Veneto. Con tutto rispetto abbiamo già provato Venezia nel 1420, non vogliamo riprovarla. Mario Anzilla Rivignano parla di un modo di lavorare proprio per cercare di trasformare il Friuli Venezia Giulia in Friuli e Trieste. Sentite che cosa ha ribadito il nostro microfono. Sindaco di Rivignano, Avvocato Anzil, oggi anche lei qui in questo convegno dà il titolo il partito territoriale, chiamiamolo così, che avendo invitato due rappresentanti dell'Alto Adige è evidente che il convegno verte sul tema, parafrasandolo anche e portandolo in Friuli Venezia Giulia, dividere le due entità friulane o unirle attraverso questo nuovo progetto Trieste e il Friuli. Lei è uno degli artefici del referendum. A che punto siamo? Stiamo lavorando ormai da qualche mese a questo progetto che è molto semplice, che si propone di riformare la regione Friuli Venezia Giulia e trasformarla in regione Friuli e Trieste, proprio sul modello del Trentino Alto Adige, che è un modello che esiste già e si può vedere come ha funzionato e si può vedere che ha funzionato molto meglio del nostro e costa molto meno perché ci sono meno enti rispetto alle 18 mini province, a sua volta sottodivise in sotto mini province, mini province maxi spese che la regione sta adesso seminando con un dispendio di denaro pubblico enorme. E quindi è un modello più semplice, che funziona meglio e che costa meno, che però i partiti non lo vogliono proprio perché perderebbero potere. E quindi abbiamo pensato che il metodo più democratico per farcelo da soli è quello del referendum. E quindi stiamo elaborando adesso i quesiti, abbiamo coinvolto, io faccio l'avvocato come ricordava e quindi diversi avvocati del foro friulano di Udine, di Gorizia, di Pordenone e di Trieste, ma anche professori universitari in materie giuridiche, segretari comunali, insomma un gruppo di esperti giuridici per proporre una modifica allo statuto della regione Friuli-Venezia-Giulia per trasformarla in regione Friuli-Trieste sul modello del Trentino-Alto Adige. Credo che tra qualche mese i quesiti saranno pronti e il prossimo anno inizieremo sicuramente questa campagna referendaria. Ci fremo qui con l'informazione del Friuli-Venezia-Giulia, vi invito a restare con noi, abbiamo le altre news e rimanete con Teleantenna.